una notte di pioggia svela un segreto che potrebbe distruggere una famiglia una madre si trova davanti a una scelta devastante proteggere sua figlia con una bugia o rischiare tutto svelando la verità in endless love il segreto amoroso di zeynep minaccia di frantumare la sua famiglia mentre le bugie si intrecciano fehime la matriarca deve decidere se salvaguardare sua figlia o confessare scatenando conseguenze imprevedibili in una giornata avvolta da un'atmosfera tesa banu inizia a nutrire sospetti si rende conto che zeynep la ragazza dal viso innocente nasconde un segreto passionale ma l'identità del misterioso amante le sfugge mentre il dubbio serpeggia nella sua mente un pomeriggio un indizio inaspettato cade nelle sue orecchie rientrando inaspettatamente sorprende zeynep in una conversazione telefonica intima troppo intima il cuore di banu si gela quando nascosta dietro l'angolo ascolta il nome di emir pronunciato con dolcezza ora tutto è chiaro ma la tempesta è appena iniziata la vita di banu e tarik costretti a condividere il tetto con i suoceri a causa di ristrettezze economiche si trasforma in un campo minato di tensioni e malcontenti le mura domestiche anziché offrire rifugio diventano testimoni di conflitti e gelosie la relazione tra banu e fehime è tesa ma ancora più complicati sono i rapporti con zeynep soprattutto quando banu scopre il segreto che lega la ragazza a emir il confronto è inevitabile e scoppia nel cuore della casa che sembra tremare sotto il peso delle rivelazioni zeynep non giocare con il fuoco avverte banu con una voce carica di minacce velate o sarò costretta a rivelare tutto ai tuoi genitori ma zeynep con gli occhi che scintillano di sfida non si tira indietro ah sì e io rivelerò a mio fratello i tuoi loschi affari con i fondi della holding di emir le parole si trasformano rapidamente in furia fisica banu accecata dall'ira alza la mano contro zeynep ma il loro conflitto viene interrotto da fehime che interviene giusto in tempo per separarle fehime con il cuore in gola guarda la figlia credendola innocente senza immaginare le ombre che si celano dietro i suoi occhi prima di accusare qualcun altro guarda tua figlia non è l'angelo che pensi sibila banu lasciando fehime in preda ai dubbi mentre l'aria si carica di sospetti e rancori fehime con uno sguardo che scotta di delusione si confronta con la figlia sei tu che le dai motivo per chiacchierare di te le rimprovera mentre l'aria si carica di tensione ma zeynep con la fermezza di chissà di essere stata provocata oltre ogni limite e ribatte è stata banu a cercarmi chiedendomi perché non mi risposo sono le sue parole a incendiare ogni volta il fuoco ma mentre le scintille volano in quella stanza un altro segreto ancor più oscuro si annida nell'ombra del passato banu l'eterna rivale di zeynep non è solo una nemica nell'amore ma condivide con lei un legame inaspettato con emir anni prima banu era stata l'amante di emir e da quell'amore proibito era nata una vita durante la loro relazione segreta banu aveva scoperto di essere incinta decisa a tenere il bambino aveva superato il terzo mese di gravidanza quando la legge non permette più di tornare indietro tuttavia emir uomo di vasta influenza e segreti ancor più profondi non aveva intenzioni di permettere che quel bambino cambiasse il corso delle loro vite attraverso contatti dubbi e un'etica discutibile aveva organizzato per banu un aborto in una clinica ginecologica di fiducia un atto che aveva segnato profondamente banu lasciandola con un cuore colmo di rimorsi e rancore zeynep si trova sull'orlo di un precipizio emotivo e familiare la sua relazione clandestina con emir che finora era rimasta avvolta nel mistero sta per essere svelata in modo drammatico banu con il cuore gonfio di gelosia e vendetta decide di giocare una carta decisiva una soffiata calcolata e precisa porta feime sulle tracce della figlia spinta da un bisogno viscerale di scoprire la verità con ogni nuovo giorno che passa in quella casa la tensione si fa più evidente e gli equilibri familiari sembrano sempre più fragili mentre le bugie di zeynep si addensano come nuvole prima di un temporale feime si ritrova avvolta in una ragnatela di dubbi sempre più oppressiva con una menzogna audace zeynep cerca di deviare i sospetti della madre raccontandole di essere la fidanzata di hakan un rispettato commissario di polizia questa rivelazione sembra temporaneamente placare le acque ma la verità è un fiume che trova sempre il suo corso le incertezze di feime si intensificano quando un giorno zeynep le dice di essere diretta all'asilo dove lavora come maestra tuttavia banu sempre pronta a gettare ombre le sussurra che l'istituto è chiuso per lavori mossa da un impulso incontrollabile feime decide di seguire la figlia scoprendola non a scuola ma in un incontro clandestino con il commissario hakan colta di sorpresa e incapace di contenere la sua confusione zeynep si affretta a spiegare dichiarando che lei e hakan sono una coppia le parole sono dette nel tentativo di calmare la tempesta emotiva della madre ma il vento di sospetto ha già iniziato a soffiare troppo forte le tensioni si inaspriscono ulteriormente quando un giorno feime sorprende banu mentre ascolta di nascosto una telefonata di zeynep l'atmosfera in casa diventa elettrica quando feime esasperata affronta la nuora basta creare problemi le intima con voce ferma ma banu lontana dall'essere intimidita risponde con un tono tagliente forse dovrebbe iniziare a occuparsi più di sua figlia se davvero vuole scoprire la verità queste parole lasciano feime con un groviglio di emozioni è una decisione inevitabile affrontare le verità nascoste che minacciano di frantumare l'equilibrio della loro famiglia il cuore di feime batte all'impazzata mentre segue le tracce di sua figlia mossa da un misto di curiosità e timore la sua determinazione la porta a scoprire zeynep mentre sale in una macchina dal design elegante e raffinato i suoi occhi si restringono quando riconosce al volante emir l'uomo al centro delle turbolenze recenti nella loro vita specie dopo che nian li ha sorpresi insieme quelle immagini bruciano nella mente di feime alimentando una tempesta di emozioni contrastanti emir con uno sguardo grave che riflette le tensioni degli ultimi giorni avverte zeynep della necessità di muoversi con cautela le sue parole sono un sussurro carico di minacce velate devi stare attenta a come ti muovi altrimenti potrei rivelare a tutti che sei stata tu a uccidere ozan fatemi sapere nei commenti se volete un video dedicato a questa rivelazione il peso di quelle parole riempie l'aria di un freddo tagliente nonostante la gravità delle circostanze l'attrazione tra zeynep ed emir si fa più forte travolgendo ogni barriera di prudenza si avvicinano lentamente e i loro labbra si incontrano in un bacio che sigilla un patto di passioni inconfessabili e pericolose ma quella scena carica di tensione e desiderio ha una testimone nascosta feime che assiste incredula e sconvolta a tutto da una distanza prudente immagine del bacio tra sua figlia e emir scuote profondamente feime la cui fiducia viene frantumata in mille pezzi in quel momento capisce dolorosamente che non può più fidarsi ciecamente di zeynep il dolore di questa rivelazione è acuto come un coltello che le taglia il respiro ma la verità è destinata a venire a galla completamente quando zeynep scendendo dalla macchina e girandosi verso casa si rende conto con un brivido di freddo lungo la schiena che la madre l'ha seguita i loro sguardi si incrociano in un silenzio pesante carico di domande non pronunciate e verità inconfessabili che ora giacciono esposte sotto la luce fredda della realtà in una sera come tante altre feime scopre un segreto che cambierà per sempre la dinamica della loro famiglia sua figlia zeynep è l'amante di emir la scena che si svolge di fronte ai suoi occhi zeynep e emir immersi in un bacio appassionato all'interno di un'auto scatena in feime un'ondata di furia incontenibile la reazione di feime è viscerale sopraffatta dall'emozione a un confronto fisico con zeynep una reazione estrema guidata dal tradimento e dalla delusione distrutta ma risoluta feime decide che non può tenere per sé queste rivelazioni sconvolgenti la verità deve essere condivisa con suo marito hussein nonostante la consapevolezza che queste parole potrebbero irrimediabilmente turbare l'equilibrio della loro vita familiare per feime questa è una questione di onestà e di protezione del nucleo familiare un dovere che sente di non poter ignorare la relazione segreta tra emir e zeynep una volta nascosta nell'ombra è ora esposta alla luce cruda del giorno per feime mentre zeynep esce dall'auto e incrocia per la prima volta lo sguardo di sua madre il peso delle conseguenze delle sue azioni inizia a materializzarsi zeynep capisce che nulla sarà più come prima il segreto è stato svelato e ora deve affrontare la realtà delle ripercussioni zeynep sorpresa e pietrificata alla vista di sua madre si rende conto dell'inevitabile verità scoperta non sa come reagire sentendosi completamente esposta e vulnerabile feime invece ha le idee chiare e la delusione si trasforma in rabbia tangibile con due schiaffi decisi esprime tutto il suo turbamento e la sua ira zeynep disperata tenta di recuperare la situazione mamma ti prego lasciami spiegare balbetta ma feime non è disposta ad ascoltare che cosa c'è da spiegare ti ho vista con i miei occhi risponde feime la voce tagliente come il vento freddo che li circonda con fermezza afferra zeynep per un braccio e la trascina verso casa sotto la pioggia battente una scena che incarna la tempesta emotiva che stanno vivendo mamma pensa alla salute di papà se venisse a sapere ciò che è successo si sentirebbe male implora zeynep cercando di appellarsi alla sensibilità di sua madre verso il benessere di hussein le sue parole cariche di paura e preoccupazione colpiscono feime costringendola a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni imminenti tu con emir urla feime la minaccia di rivelare tutto a hussein appesa tra di loro come un fulmine pronto a colpire dirò a papà ciò che stai combinando e te la vedrai con lui ma nel cuore di feime si accende un dilemma proteggere il marito dalla verità per preservarne la salute o affrontare la situazione esponendo la famiglia a un potenziale dolore ancora maggiore in questo momento di crisi feime si trova davanti a una scelta difficile la pioggia che le avvolge sembra quasi riflettere le lacrime e il conflitto interiore che feime sta vivendo alla fine nonostante la minaccia e la rabbia l'amore e la preoccupazione per la salute di suo marito potrebbero spingerla a mantenere il segreto proteggendo zeynep dalle immediate conseguenze delle sue azioni ma a quale costo feime e zeynep ritornano a casa sotto una pioggia incessante le loro figure fradice riflettendo la tempesta emotiva che hanno appena attraversato hussein allarmato per le loro condizioni le accoglie con preoccupazione mentre zeynep cerca di minimizzare l'accaduto dicendo che si è trattato di un piccolo diverbio con la madre feime sembra combattuta tra il desiderio di rivelare la verità e la necessità di proteggere la figlia in precedenza zeynep aveva cercato di deviare i sospetti della madre raccontando di essere la ragazza del commissario hakan questa menzogna era nata dal bisogno di coprire le tracce del suo vero rapporto con emir e di allontanare l'attenzione dalla possibilità che fosse coinvolta nella morte di ozan feime avendo scoperto la figlia in compagnia di emir invece che di hekan era stata spinta oltre il limite della tolleranza nonostante la sua fermezza iniziale e la determinazione a condividere tutto con hussein l'arrivo a casa e l'effetto della preoccupazione del marito ammorbidiscono il cuore di feime dopo un momento di riflessione decide di proteggere zeynep dalle conseguenze potenzialmente devastanti della verità così con un filo di voce che maschera la sua ansia feime decide di perpetuare la bugia di zeynep informando hussein che presto hakan verrà a chiedere la mano della loro figlia hussein ignaro delle reali dinamiche e delle tensioni sottostanti accetta questa spiegazione ma la verità è un seme che una volta piantato continua a crescere banu la cognata che conosce i segreti di zeynep e le sue bugie rimane un elemento incerto e potenzialmente pericoloso la sua conoscenza della verità pende come una spada di damocle sulla famiglia e rimane da vedere se deciderà di condividere quello che sa con hussein secondo voi banu dovrebbe dire tutta la verità o tacere? fatemi sapere nei commenti io sono isabella e come sempre vi ringrazio per aver visto il video vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video grazie